Ciao a tutti e bentornati nel mio ultimo video sul canale YouTube. Nel video di oggi volevo parlare di tre strumenti per investire nel mercato americano. Cercherò di fare un video pratico che ho visto, dei video precedenti vi piacciono molto di più. Nel video di oggi, prendendo spunto dal video precedente sui tre ETF obbligazionari, volevo parlare di una cosa simile. Oggi infatti andremo a prendere in esempio tre ETF per investire nel mercato statunitense. Vi dico già che non saranno solo tre ETF sullo Standard & Poor's 500, perché ovviamente non c'è solo questo indice per investire negli USA. Ma vi darò anche due altre alternative. Piccola parentesi però prima di iniziare, ovviamente questi non sono consigli di investimento, né raccomandazioni d'acquisto o di vendita. Il video ha solo uno scopo e valenza informativa. Quindi mi raccomando, non prendete decisioni sulla base di cosa vedrete qui. Ok, iniziamo subito. Iniziamo col dire che questi ETF potete tranquillamente trovarli online, su portali che trattano strumenti finanziari come Morningstar, Borsa Italiana. Io uso Giast ETF perché mi trovo veramente bene. Comunque, ognuno poi sceglie anche in base a cosa si trova meglio e preferisce. Partiamo subito con la nostra guida. Dato che in questo video l'obiettivo è di discutere di tre alternative per investire nel mercato statunitense, ho deciso di soffermarmi sulle big cap, quindi sulle aziende di grosse dimensioni. Questo perché volevo confrontare ETF simili tra loro. Infatti ha poco senso, per questo video, proprio per la finalità di questo video, mettere in paragone uno Standard & Poor's 500 che investe in big cap con un Russell 2000, che investe in aziende di piccole dimensioni. Infatti sarebbe un po' come paragonare le mele con le pere. Ora, iniziamo subito con il primo strumento. Il nostro mitico ETF, ovviamente, iShares Core Standard & Poor's 500. Questo strumento replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione dell'indice Standard & Poor's 500. Iniziamo dal costo che, come vediamo, è veramente minimo. È uno degli strumenti più economici presenti sul mercato. Infatti il costo per questo strumento è attualmente dello 0,07%. Quindi il costo avrà un impatto pressoché nullo su quelli che saranno i nostri rendimenti futuri. La politica dell'ETF è ad accumulazione, il che significa che reinvesterà i provenienti generati dai dividendi all'interno del fondo stesso. Questo approccio porta a un beneficio maggiore nel lungo termine, in termini di interesse composto nel corso degli anni. Per quanto riguarda invece il metodo di replicazione, l'ETF utilizza la replica fisica totale per seguire il suo indice di riferimento. Questo cosa significa? Significa che acquisterà fisicamente tutte le azioni presenti all'interno dello Standard & Poor's 500, il quale è, come ben sappiamo, costruito in base alla capitalizzazione di mercato. Quindi le aziende con una maggiore capitalizzazione hanno un peso più elevato, perché pesano di più all'interno dell'indice. E l'ETF appunto seguirà questo criterio replicando l'intero indice. La dimensione del fondo è molto grande, con un patrimonio di 70 miliardi e 368 milioni di euro. Una somma considerevole comunque. Le prime dieci posizioni dell'indice pesano quasi per il 31%, il che non sorprende, dato che attualmente le principali aziende, come Apple, Microsoft e Nvidia, stanno trainando gli indici principali, statunitensi sul mercato. I settori principali in cui l'indice investe sono informatica, con un 31,76%, salute, 12,47%, e beni volutuari, 11,18%. Ora possiamo passare a discutere di quelli che sono i rendimenti. Nell'ultimo anno questo strumento ha tratto enormi benefici dalle ottime prospettive future del mercato, registrando una crescita consistente del 23%, e i cinque anni precedenti ha conseguito una performance addirittura del 100%, praticamente raddoppiando gli investimenti iniziali, il che rappresenta sicuramente un risultato molto positivo. Tuttavia, quando si parla di rendimenti, è essenziale considerare anche il rischio associato. Parlando di rischio, iniziamo con la volatilità. Questo concetto si riferisce alla rapidità e all'intensità in cui i prezzi di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni e materie prime, variano nel tempo. In altre parole, indica quanto agitato sia il mercato. Negli ultimi cinque anni, questo strumento ha registrato una volatilità del 21,54%, il che significa che è soggetto movimenti abbastanza significativi nel suo valore nel corso del tempo. Ma tenuto presente che, essendo un indice azionario, o se si desidera ridurre le oscillazioni, potrebbe essere necessario considerare altri strumenti, come gli strumenti obbligazionari. Però adesso non è il tema di questo video. Passiamo ad un altro indicatore di rischio adesso, il massimo drawdown o massima perdita. Questo è un importante indicatore di rischio per un investimento, poiché indica la massima perdita percentuale che un investimento ha subito da un picco massimo a un successivo minimo, prima di raggiungere un nuovo picco massimo. Negli ultimi cinque anni, la maggior perdita registrata da un picco massimo è stata del meno 33,71%. Questo ci ricorda che in finanza non esistono pasti gratis. È una frase che appunto cattura bene l'idea, poiché se vogliamo ottenere rendimenti significativi dai nostri investimenti, dobbiamo essere però disposti ad accettare un rischio che è elevato. Purtroppo questa è una legge della finanza da cui noi non possiamo sfuggire. Certamente però è sempre utile dare un'occhiata anche alla scheda tecnica di un ETF per ottenere gli ultimi dati e informazioni di cui potremo avere bisogno. Dato che gli ETF devono seguire passivamente gli indici, è importante secondo me controllare la loro fedeltà nel replicare gli indici di riferimento. In questo caso sembra che l'ETF sia costruito con cura e in generale gli ETF replica totale tendono ad avere un basso tracking error, poiché il metodo di replicazione è più preciso rispetto magari a un campionamento ottimizzato. Anche se però questo potrebbe portare a costi leggermente superiori, appunto perché la movimentazione di titoli è maggiore al suo interno. Terminiamo ora osservando che questo ETF utilizza il prestito titoli. Il prestito titoli all'interno degli ETF è un processo che consente agli operatori di mercato di prendere in prestito le azioni sottostanti degli ETF per un periodo determinato al fine di vendere sul mercato e trarne un profitto. Una volta ottenute le azioni in prestito, l'operatore le vende sul mercato aperto cercando di beneficiare della differenza di prezzo nel corso del tempo. Durante il periodo di prestito, l'operatore è tenuto a pagare un tasso di interesse al prestatore per l'utilizzo delle azioni, il quale può variare a seconda delle condizioni di mercato, dagli accordi tra le parti, eccetera. Alla scadenza del prestito, l'operatore restituisce le azioni prese in prestito al prestatore. Questa pratica, che adesso io vi ho cercato di spiegare semplicemente, può offrire un vantaggio poiché rappresenta un'ulteriore fonte di reddito per l'ETF che può utilizzare i provenienti del prestito titoli per durare i costi degli strumenti. Tuttavia, va tenuto presente che questa operazione comporta un rischio, seppur minimo. Attualmente le politiche sul prestito titoli sono veramente molto stringenti, ma c'è comunque un rischio di controparte nel caso in cui il prestatore non adempia gli obblighi contrattuali. Ora, come accennato all'inizio del video, gli investitori non si limitano solamente allo Standard & Poor's 500, o perlomeno non esiste solo questo indice per investire nel mercato americano. Pertanto esploreremo altri due strumenti su cui è possibile investire, o almeno considerare, per il proprio portafoglio personale. Prenderemo in considerazione adesso un altro ETF, questa volta di X-Trackers. X-Trackers, MSHAI, USA. Questo ETF replica le principali aziende statunitensi con alcune piccole differenze, ripeto, piccole differenze rispetto allo Standard & Poor's 500. Lo Standard & Poor's 500 e questi ETF sono entrambi indici di mercato ampiamente seguiti, che rappresentano il mercato azionario statunitense, ma sono gestiti da due diverse società di indice e presentano alcune piccole differenze chiave. Lo Standard & Poor's 500 include le 500 società più grandi quotate sulla borse americana, selezionando in base alla capitalizzazione di mercato ed altri criteri. D'altra parte, l'MSHI USA comprende una gamma più ampia di società, che normalmente è intorno ai 600-650 titoli. Le discrepanze tra i due indici, che comunque sono minime, possono essere in gran parte attribuite alla composizione settoriale. Nell'MSHI il settore tecnologico rappresenta circa il 28% dell'indice, mentre nello Standard & Poor's 500 si attesta intorno al 26%, di media più o meno. Questa differenza è compensata dal peso maggiore del settore farmaceutico, nello Standard & Poor's 500, che supera il 14%, mentre resta inferiore nell'MSHI. Altri settori che contribuiscono in modo significativo alla divergenza includono beni di prima necessità ed energia, che hanno una maggiore rappresentanza nello Standard & Poor's 500 rispetto all'MSHI. È evidente che le differenze tra i due indici sono piuttosto sottili, che la preferenza per un settore su un ETF rispetto a un altro potrebbe essere influenzata anche dalla casualità. La volatilità inoltre sembra essere un fattore irrilevante nel differenziare i due indici, però tuttavia potrebbe essere anche un'opzione interessante per diversificare appunto il nostro portafoglio. Osserviamo adesso anche qui il costo, che come per il precedente strumento è molto basso, pare lo 0,07%, quindi ottimo. ETF da accumulazione, il che reinvestirà i proventi dei dividendi consentendoci di risparmiare il 26% delle tasse che altrimenti dovremmo pagare. Questo aumento del nostro interesse composto nel corso degli anni è ovviamente molto positivo. Le dimensioni del fondo qua è leggermente inferiore rispetto all'ETF precedente, ma comunque rappresenta un'ottima grandezza, con una dimensione attualmente di 6 miliardi e 726 milioni di euro. Tanto per capire, di solito a me piace stare su ETF che abbiano almeno come dimensione un 400 milioni di euro, quindi possiamo dire che anche qua è un ETF che per le mie regole va più che bene. Guardiamo ora nelle performance. In un anno l'ETF ha generato un rendimento del 24%, praticamente molto simile al precedente Standard & Poor's 500, che era del 23%. E ai 5 anni precedenti ha ottenuto un rendimento del 102%, quindi anche qua più o meno piuttosto simile. Andiamo ora a controllare la panoramica del rischio. In un anno la volatilità è stata del 13,45%, mentre nei 5 anni è stata del 21,74%. Il massimo drawdown del lancio di questo strumento è stato del meno 34,6%, quindi anche qui abbastanza in linea con l'ETF sullo Standard & Poor's 500. Come abbiamo detto prima, anche per questo ETF valgono le stesse considerazioni. È completamente azionario, quindi è uno strumento che, nonostante possa portare guadagni anche magari significativi, è soggetto a notevoli oscillazioni. Attualmente questo ETF ha 609 aziende al suo interno. Il PE è molto simile a quello del fondo dello Standard & Poor's 500, e si attesta a 24. Comunque anche questo ETF, come quello precedente, utilizza il prestito titoli. Ora vediamo il grafico e confrontiamolo con quello dell'ETF precedente. In un anno le performance sono state praticamente uguali, 24% per l'EMSHA USA e 23% per l'ETF sullo Standard & Poor's 500. Nei tre anni vediamo qualche piccola differenza, 45% per l'EMSHA USA, mentre per l'ETF sullo Standard & Poor's 500 è stata del 49%. Dal 2014 invece le performance sono state parecchio simili, 295% per l'EMSHA USA e 296% per lo Standard & Poor's 500. Ora vediamo l'ultimo strumento. Questa volta un altro ETF di iShares, stiamo parlando della Shares Age I'm Shy USA Quality Factor. Questo ETF fa parte degli ETF Smart Beta. Un ETF Smart Beta è un tipo di fondo negoziato in borsa, progettato per seguire sempre un indice di investimento, che utilizza però una metodologia di selezione dei titoli diversa rispetto agli ETF tradizionali. Questa metodologia mira a migliorare le prestazioni dell'indice di mercato rispetto agli ETF tradizionali. ETF Smart Beta possono utilizzare una varietà di criteri di selezione e ponderazione, come la volatilità, i dividendi, la qualità, il momentum, ma sempre rimanendo all'interno, questo è importante, del metodo di replicazione passivo. Questo significa che non c'è alcun gestore che seleziona i titoli, ma tutto avviene in maniera automatica, seguendo indici patrimoniali, di bilancio, finanziari. Questi criteri vengono utilizzati per costruire un portafoglio che mira ottenere un'esportazione più mirata e specifica a fattori di rischio o a sfruttare le inefficienze di mercato. Questo ETF utilizza una strategia che viene definita multifattore. Questo significa che tiene in considerazione diversi aspetti per la selezione dei titoli da replicare, replicando così i principali titoli azionari del mercato statunitense. I componenti sono selezionati in base a tre principali indicatori in questo ETF, c'è l'alto rendimento del capitale, bassi livelli di indebitamento e bassa volatilità dei profitti su base annuale. Quindi diciamo che è una strategia anche interessante per investire. Il costo di questo strumento è ovviamente leggermente più alto rispetto al precedente. In questo caso si parla di un 0,20%, quindi leggermente superiore, ma comunque inferiore ai normali fondi comuni di investimento che possono arrivare anche a dei costi del 3% annuo. Come per gli altri due strumenti, anche questo ETF è ad accumulazione e utilizza una replica fisica totale. In questo ETF le prime dieci posizioni pesano leggermente di più rispetto agli altri due strumenti, che erano intorno al 30%. In questo caso il peso arriva fino al 37%, rendendo quindi lo strumento leggermente più polarizzato rispetto agli altri due. Analizzando il rischio e i rendimenti, possiamo notare che anche qui le performance sono state molto simili. Una differenza rispetto agli altri ETF è il numero di titoli però al suo interno, che è nettamente inferiore. Attualmente questo ETF infatti conta solo 126 titoli, risultando quindi uno strumento meno diversificato. Ovviamente 126 titoli è già una diversificazione importante, però se paragonato con gli strumenti precedenti è leggermente inferiore. Ora andiamo a vedere il grafico di tutti questi tre strumenti insieme. Iniziamo confrontando le performance a un anno di questi tre. In questo caso vince il nostro ETF Smart Beta, ottenendo un bel 28,91% rispetto al 23% dello Standard & Poor's 500 e del 24% del Nameshye. Tuttavia nei cinque anni possiamo vedere che le performance sono piuttosto simili, così come se osserviamo le performance anche dal 2017. Ovviamente sarà interessante per quanto riguarda l'ETF Smart Beta, quest'ultimo, osservarlo in un'ottica più di lungo termine, magari 15-20 anni, per capire se effettivamente avrà una performance migliore rispetto all'indice Standard & Poor's 500, Nameshye, USA. Tuttavia essendo un ETF questo qua che è un po' più giovane degli altri strumenti, lo potremmo sapere solo col tempo. In ogni caso volevo condividere con voi una piccola tabella che potrebbe essere utile per analizzare e comparare meglio i tre ETF precedentemente analizzati, così anche da avere un'idea un po' più chiara e sintetica dei tre strumenti. Come avrete capito i movimenti di questi strumenti sono simili, poiché investono tutti negli USA e in aziende a grande capitalizzazione. Non possiamo quindi aspettarci rendimenti, ovviamente che sono troppo divergenti l'uno dall'altro, perché più o meno fanno le stesse cose. Chi ha un po' più titoli, chi utilizza più un approccio Smart Beta, ma comunque siamo sempre nello stesso ambito. Concludendo comunque, l'obiettivo di questo video non è quello di farvi vedere quale strumento è migliore, ma farvi vedere che se si vuole investire negli Stati Uniti, possiamo anche farlo senza prendere per forza lo Standard & Poor's 500, che adesso è un ottimo strumento, non voglio dire che non lo sia. Io personalmente ce l'ho anche nel mio portafoglio personale, però sarebbe interessante valutare anche altri strumenti, magari ecco, anche in base a un beneficio maggiore, in termini di diversificazione. Comunque, anche il video di oggi termina qui. Fatemi sapere con un like se vi è piaciuto e ditemi con un messaggio qui sotto quale dei tre strumenti voi preferite per investire nel mercato americano. Comunque, iscrivetevi al canale e flegate la campanella per rimanere aggiornati sugli ultimi video. Non mi resta che salutarvi tutti, quindi un saluto a tutti e ciao!